buongiorno oggi passeremo la mattinata insieme dopo essermi lavata il viso procedo con un po di skin care alla prossima Ieri ho preparato una torta e farò colazione con quella oggi. Se siete curiosi trovate la ricetta della torta allo yogurt in descrizione. La 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 torta allo yogurt in descrizione. Il momento di meditazione, stretching e yoga è per me fondamentale. Perché non solo mi aiuta a prendermi più cura del mio corpo. Ma anche a capirlo meglio. E mentre lavoro su me stessa penso. Penso spesso alle cose belle. A volte anche alle cose brutte purtroppo. Però in questo momento cerco di rimettere il focus sulle cose veramente importanti. la torta allo yogurt in descrizione. 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 Io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo alla prossima, ciao!